La chitarra classica Quando mi rivelò dell'esistenza di questo strumento Che era rimasto chiuso in soffitta per anni Decidemmo di riesumarlo ma non era proprio pronto per essere suonato E quindi poi il mio primo strumento effettivo fu un'altra chitarra Che compramo poi i più avanti Ho iniziato ad ascoltare musica partendo dai classici Nirvana I Alice in Chains e tutto quel rock anni 90 fino anni 80 Poi con il tempo mi sono appassionato ad altri generi Fino all'incontro con il cantatoreato italiano Che è stato comunque molto importante Anche perché quando poi mi sono approcciato Alla scrittura delle prime bozze di canzoni Mi sono trovato molto più comodo nello scrivere in italiano E due anni fa ho conosciuto Elemento Humano e Drab Con cui ho collaborato all'arrangiamento e alla registrazione Delle prime demo, dei primi brani che avevo scritto E il primissimo brano che abbiamo fatto insieme È Emorragia Che è uscito il 17 dicembre per la Rio Music Ed è il singolo di riferimento di un EP che uscirà a gennaio Il 21 gennaio che si chiama Giorno 1 E anticipa l'uscita di altri due EP Che sostanzialmente sono il racconto di Lazzaro All'interno del sepolcro prima della risurrezione Andate ad ascoltare Emorragia Spero vi piaccia, fatemelo sapere E spero vogliate aspettare anche il video di Emorragia Che a breve uscirà il 7 gennaio Le riprese sono di Simone Angemi E il montaggio di Emanuele Baronti Ciao Ciao